Nata in Argentina da genitori italiani, ha solo nove mesi quando viene riportata in Italia dalla madre, rimasta sola a seguito di una malattia psichiatrica del marito. Si stabiliscono a Roma, dove sua madre si risposa con un ufficiale dei carabinieri. Ha 16 anni, mentre sta frequentando la Quinta Ginnasio. Viene notata dal regista Piero Francisci, che le propone la partecipazione ad un cortometraggio. A seguito di tale piccolo ruolo riceve una proposta di Amleto Palermi per partecipare nel 1933 ad. Un film a soggetto, dopo alcune piccole parti, tra cui quella della timida ragazza ingannata dall'anziano spasimante in treno popolare. Diretto nel 1933 da Matarazzo. Nel 1934 arriva al grande successo con il film Seconda B di Goffredo Alessandrini. In cui interpreta una studentessa che con crudele civetteria d'adolescente gioca uno scherzo a, un non più giovanissimo professore. Il film ottiene un grandissimo successo e a questa seguono numerose interpretazioni che le, consentono di affermarsi come diva del cinema dei telefoni bianchi. L'attrice infatti prende parte a numerose commedie di grande consenso popolare, nelle quali interpreta spesso ruoli di drovatella, giovane cameriera o maestrina. Tra le numerose pellicole di genere brillante che la vedono protagonista, Napoli da altri tempi, 1938, di Amleto Palermi, Addio Giovinezza, 1940, di Ferdinando Maria Poggioli, La Maestrina, 1942, di Giorgio Bianchi, dotata di grande versatilità. Maria Dennis si fa notare anche come attrice drammatica, interpretando con grande sensibilità e raffinatezza la ragazza cieca nelle due orfanelle. 1942, di Carmine Gallone, accanto ad Alida Valli, la traditrice che muore colpita da un colpo di pistola in abbandono. 1940, di Mario Mattoli e la povera ed umile servetta in Sissignora. 1941, di Ferdinando Maria Poggioli, accanto alle sorelle Emma ed Irma Grammatica. Fu anche interprete di film di propaganda fascista come 1860. 1934, di Alessandro Blasetti e l'assedio dell'Alcazzar. 1940, di Augusto Genina, durante la guerra, per salvare dal carcere il regista Lucchino Visconti con il quale ha una relazione. L'attrice, agendo di sua iniziativa, accetta malvolentieri e adebita a distanza le attenzioni del sinistro e detestato torturatore, Pietro Cocch, ma commette varie imprudenze, non ultima quella di farsi vedere in giro con lui, esponendosi quindi a inquietanti sospetti. Il regista, che è realmente impegnato nelle attività clandestine della resistenza romana, viene effettivamente liberato ma tutt'altro che riconoscente. Interrompe ogni rapporto con la Denise. L'attrice racconterà più volte di avere sofferto profondamente per la fine della storia con Visconti.